Sono stati 3.200 i partecipanti alle due giornate di screening dedicato agli studenti delle scuole pesaresi nelle giornate di giovedì e venerdì. L'ombra della zona rossa e la didattica a distanza hanno invece fatto saltare le due giornate di tamponi di massa previste in questa settimana, ma saranno recuperate. Intanto il comune di Pesaro fa scudo sulle critiche arrivate dalla Lega e dal consigliere regionale Nicola Baiocchi che nel weekend avevano denunciato la dubbia utilità di questa procedura rispetto alla priorità assoluta della campagna vaccinale documentando anche evitabili rischi di assembramento. Ma questa è un'operazione che ha visto grande collaborazione da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. Lo hanno dimostrato i numeri, un'adesione molto alta, si parla comunque di 3.200 soggetti che sono stati tamponati quindi da personale docente a ragazzi, a partire dai nidi, infanze, elementari, medie e superiori. Ci hanno detto che ci sono stati 14 positivi, il che vuol dire che la scuola è un luogo abbastanza sicuro, la percentuale è molto più bassa rispetto al contesto in cui noi viviamo perché si parla di altri numeri. Questo cosa significa? Che la scuola merita un'attenzione diversa. I nostri ragazzi, i bambini, ci vuole un'attenzione diversa. Le scuole non possono essere le prime cose che vengono chiuse e non possono essere le ultime a rieprire. Occorreva fare tanto. Da inizio allo scolastico andava previsto uno screening. Lo abbiamo chiesto più volte, ma non lo abbiamo chiesto solamente per la città di Pesaro, lo abbiamo chiesto per l'intera regione Marche. Questo ti permette di avere una fotografia istantanea di quel momento. Allo stesso tempo, secondo me, scattava e scatterebbe anche un meccanismo di responsabilità. Perché se io so tutte le settimane, tutti i mesi di essere controllato, probabilmente è anche in un contesto fuori rispetto a quello che è il contesto scolastico, ho un'attenzione di riguardo. Noi lo vorremmo ripetere appena le scuole rientrano in presenza. Questo è quello che noi vogliamo fare. Come abbiamo già annunciato, l'abbiamo fatto per due volte, per la terza volta, quindi quando i ragazzi rientreranno a scuola, noi vogliamo avere quella che è la fotografia istantanea di quel momento. Ricordo che i ragazzi sotto i 16 anni non si potranno vaccinare, non è in programma il vaccino e anche i ragazzi maggiorenni non faranno il vaccino entro la fine dell'anno scolastico. Probabilmente lo faranno a inizio del prossimo. Quindi tenere monitorati i contagi per evitare terapie intensive penso che sia una strada che debba essere percorsa insieme e rifaccio nuovamente un appello alla regione Marche. Ricordiamo che la chiusura delle scuole oltre a un danno educativo è anche un danno economico e sociale importante.